A Giulianova la bassa marea registrata nel giorno dell'equinozio di primavera ha portato alcuni grandi pescherecci, tra quelli di più alto tonnellaggio, a rimanere insabbiati nei pressi dell'imboccatura mentre stavano uscendo dal porto per la normale attività di pesca. Mentre altri due pescherecci, sempre in uscita, hanno toccato nettamente il fondale, ma sono riusciti ad evitare l'incaglio. Per liberare le imbarcazioni c'è voluto l'intervento di altri pescherecci e più di un'ora di tempo. Al fenomeno naturale della bassa marea però ci si aggiunge l'annoso problema dell'insabbiamento del porto, che sta creando non pochi disagi tra i pescherecci, in particolare per quelli più ingombranti, che non possono navigare in tranquillità all'interno dello scalo marittimo giuliese. Sì, da parecchio tempo fa, da oltre 20 anni, forse anche più. Quindi il porto di Giuliano purtroppo è insabbatissimo, c'è solo un canalone in mezzo che riesce, diciamo, dove possono passare le barche, quelle più grandi. E praticamente, diciamo, come ieri che si è abbassate, che c'è stata la bassa marea, quindi toccano le barche e sono rimaste ingagliate. Ma lo stesso problema è successo anche ieri nel Tirreno, esattamente in Toscana, a Castiglione della Pescaia, la stessa cosa. Quindi penso che sia qualche fenomeno, diciamo, naturale, ma improvviso per questa bassa marea, perché non è stata solo a Giuliano, ma è stata anche a altre parti d'Italia. Però è una situazione su cui bisogna intervenire, perché altrimenti più si va avanti e più c'è il rischio del blocco totale delle imbarcazioni. Sì, certamente. Un intervento, forse subito, per risolvere il problema delle emergenze che abbiamo da tema nel bacino portuale di Giulianova. È un problema che riguarda tutta, diciamo, la marineria, quindi non è solo per la pesca, ma anche per quanto riguarda anche il diporto, penso, quindi tutte le altre imbarcazioni che ci stanno. E prima o poi bisognerà risolvere, perché altrimenti andrà il bacino portuale e si insabbierà ancora di più. E quindi bisognerà intervenire anche sull'imboccatura del porto, però ci servono milioni di euro. Speriamo che si riescano a trovare questi soldi con il PNRR. Purtroppo la marineria, cioè all'eccedo pescareccio, non è stata mai data la possibilità di avere un programma a medio e lungo termine con delle scadenze, ma con degli obblighi da assolvere e da adiempire.